Il tempo moderno è decifrabile attraverso la nozione di teologia politica, che può essere piegata a significare molte cose. È quella che fa della teologia politica lo strumento grazie al quale si scopre la struttura metafisica dell'epoca. Si adopera la parola epoca per indicare un tempo sospeso, cioè un tempo che ha in sé la propria legge, un tempo che si pone come tempo autonomo e che ha una propria dinamica temporale interna. Come fa e perché? Che cosa significa che l'età moderna è un'epoca in cui il tempo si pone come tempo autonomo in sé chiuso? Da dove lo possiamo evincere? Che cosa significa? Allora, noi vinco dal terzo libro del Leviatano, dove il grande filosofo della ragione politica moderna, Hobbes, spiega che la ragione politica moderna ha senso soltanto se si rienterpreta il tempo sacro, il tempo cristiano. Lo si dilata fra due colonne d'Ercole. La prima, quella che allontana per sempre la divinità, ogni traccia di sacro da questo mondo. Questo è in realtà un processo, comincia con Saul e finisce con l'ascensione in cielo di Gesù. Dopo questo atto non c'è più alcun rapporto fra cielo e terra. E l'altra colonna d'Ercole è la promessa cristiana del ritorno di Gesù sulla terra nel regno millenario che precederà il giudizio universale. Come si vede, in questo modo si apre un bel tratto di tempo, il cui inizio è più o meno noto, il cui termine è completamente ignoto, e in questo tratto di tempo abbiamo un tempo vuoto, un tempo vuoto di sostanze, perché dire sacro e dire sostanze è la stessa cosa, vuoto di fondamento, vuoto di essere, che è, possiamo definirlo come tempo dell'attesa, è un tempo che si determina, allora è al tempo stesso, è contemporaneamente, è un tempo privo di sostanza e determinato dalla sostanza nel modo dell'assenza, cioè non è un tempo banalmente privo di sacralità, è un tempo privo di sacralità, cosa che è importante, perché quest'essere privo di sacralità nasce dal fatto che la sacralità si è ritirata. Questa è teologia politica, leggere la modernità non come un tratto banale di storia qualunque, uguale al medioevo, uguale all'antichità, no, leggere la modernità non come un pezzo del percorso umano qualitativamente analogo agli altri e nel caso specifico vuoto, cioè in cui la sostanza è secolarizzata, ma leggere nella secolarizzazione la pretesa dell'abbandono del sacro, pretesa che non si realizza mai. Il sacro è presente anche nella sua assenza, una cosa non difficile da concepire, il che vuol dire che la scomparsa del sacro, la scomparsa della sostanza, la scomparsa dell'essere, la scomparsa di Dio, no, tutto ciò non toglie che i modi di funzionamento dell'epoca non siano sostanzialmente analoghi ai modi di funzionamento dell'epoca in cui il tempo era tempo sacro, cioè anche l'epoca moderna, pur vuota di essere, funziona in modo metafisico, cioè funziona avendo una idea di centro, avendo un'idea di relazione fra il centro e la periferia, avendo un'idea di centralità di qualche cosa rispetto a qualche cosa d'altro. La differenza è che la centralità qui è evidentemente quella del soggetto, che il tempo è un tempo in cui può capitare di tutto, primo, perché tanto è un tempo dequalificato, è il tempo dell'attesa, e secondo, è un tempo in cui noi ci immaginiamo, ecco, che si possa scorgere un movimento progressivo, lineare e progressivo, cioè vedete siamo davanti a un'inversione del concetto, non è vero che il progresso è la misura di tutta la storia umana, il progresso è un'invenzione moderna ed è il modo attraverso il quale i moderni si immaginano che funzioni la storia. A chi dobbiamo questa interpretazione? Hobbes, Schmitt e che cosa significa inoltre teologia politica, che in questo tempo vuoto, reso possibile dal ritrarsi del sacro, che funziona ancora secondo le logiche della metafisica, il centro fondativo c'è, ma al tempo stesso non c'è, cioè c'è un centro sfondativo, questo centro sfondativo, un centro che continua a funzionare come centro ma non si fonda sull'essere, ma si fonda sul contrario dell'essere, sull'assenza di essere, questo centro che si fonda sopra il contrario dell'essere è la decisione. L'epoca moderna è l'epoca in cui la struttura del tempo è una struttura fratta e discontinua, tutta segnata da decisioni e il tempo stesso, contemporaneamente, l'epoca moderna è l'epoca in cui ci si immagina che il tempo sia al contrario, un tempo lineare, progressivo. Voi vedete in che modo la teologia politica è sovversiva rispetto all'autointerpretazione del tempo moderno. Abbiamo una temporalità teologico-politica che significa che quello che si dà, si dà in virtù della dipendenza da un centro che è decisione. È un tempo in cui può succedere di tutto, è un tempo in cui si può fare di tutto. Allora è un tempo che può essere immaginato, appunto la parola chiave è immaginato, può essere pensato come un tempo lineare, è un tempo che invece in altre circostanze può rivelare la propria insensatezza, cioè il proprio essere un labirinto. È che questo tempo è un tempo dell'attesa, certo l'abbiamo detto, cioè è un tempo in cui il sacro non interviene, ma è un tempo straordinariamente indaffarato. È il Novecento che coglie l'insensatezza di questa temporalità e la trasforma nell'aspettare Godot, cioè nell'aspettare non si sa che cosa. Ma tutta la modernità è proprio in quanto dequalificato, presenta un tempo che viene riempito di faccende, faccende pubbliche, faccende private, un tempo di affaccendate. Allora il rapporto tra pensare e fare come mediazione immediata nel segno dell'utilità è la tecnica. La tecnica come qualità dominante dell'agire è appaesabile esclusivamente nel tempo sospeso, nel tempo epocale, nell'epoca moderna. Se sei in presenza del sacro, non ti affiglia la tecnica. Se sei nell'assenza del sacro, ti affiglia la tecnica. In questo tempo moderno, in questo tempo desacralizzato, in cui il sacro funziona soltanto attraverso le coazioni che lascia dietro di sé, in questo tempo è il tempo dell'azione per la potenza, cioè per sé stessa, per agire, agire per agire. Lo possiamo definire il tempo della costruibilità. Se ci pensate è soltanto in questo tempo che si può avere l'idea che ovunque e sempre si può e si deve costruire. Non a caso sotto il profilo filosofico politico qui si rientra all'interno di quello che si chiama, anche per criticarlo, ma insomma questo ci interessa meno, che si chiama il costruttivismo moderno. Cioè l'idea che l'esperienza umana, la vita dell'uomo, la vita associata a degli esseri umani, consiste nel costruire, non nell'abitare il già dato, ma nel costruire. costruirsi la casa, costruirsi un senso. Questo perché siamo esposti a un vuoto, a una kenosis che è il vuoto del sacro. Mentre ci procuriamo un tempo che è il tempo dell'azione per la potenza, che è il tempo della costruibilità, che è il tempo del progresso, al tempo stesso facciamo l'esperienza del fatto che, come vi dicevo, in questo tempo tutto è possibile. Questo tempo in realtà è pieno di contingenza. Noi ce l'immaginiamo come il tempo della costruibilità, perché non troviamo nessuna sostanza, nessuna qualità che fermi il nostro agire e va bene, ma questo non trovare gli ostacoli al nostro agire, ostacoli qualitativi, non toglie che noi possiamo trovare infiniti ostacoli quantitativi, accidentali, empirici e anzi, che la nostra epoca è piena di macerie. Clausewitz ci spiega che la guerra ha in sé una logica, una logica lineare, appunto, progredisce, progredisce secondo la propria essenza, che è porsi il fine di impedire l'azione all'avversario. Il modo più radicale per impedire l'azione all'avversario ovviamente è ucciderlo e quindi la guerra può partire dalle scaramucce e secondo la propria logica arriva fino all'annichilimento, della forza armata avversaria, con una ascesa lineare. Bene, questa ascesa lineare, questa ascesa agli estremi, la chiama lui, dice Clausewitz, beato lui, che pure aveva visto la guerra napoleonica, questo dice non succede mai perché non necessariamente per volontà, per buona volontà dei contendenti, ma perché la guerra contiene in sé degli attriti, cioè ci sono le contingenze, per cui noi abbiamo un fare, un agire che contiene in sé una coazione all'estremo e al tempo stesso abbiamo un fare, un agire che siccome si dà in un contesto epocale privo di senso, incontra continuamente blocchi di senso, cioè incontra continuamente istanze che disturbano e che fanno perdere tempo, che fanno perdere intensità alle dinamiche e che dopo tutto fungono da catechon, cioè da ritardatore dell'ascesa agli estremi. Ora il catechon, appunto, questo lo sappiamo bene, è interno a ciò che deve frenare, non è esterno. Il pensiero dialettico, Hegel, ha tratto la convinzione che l'andamento della ragione non è progresso, ma è un corteo battico. Da ciò si può tirar fuori un'altra tesi, la tesi del pensiero negativo, cioè che quello che conta, l'essenza dell'epoca è per l'appunto il suo essere insensata e di una insensatezza radicale non emendabile. Padri della nostra professione di filosofi, Platone e Aristotele, perché in entrambi la dimensione del tempo rileva la dimensione dello spazio. Il tempo è un'invenzione cristiana e poi moderna. Lo spazio c'è sempre stato. Platone. E vi dicevo il rapporto fra spazio e filosofia è solido e antichissimo. Non sarà un caso che Platone istituisca un fortissimo rapporto fra la geometria e la filosofia e quindi poi con la politica, perché per Platone il rapporto, perché la filosofia a sua volta è signora della politica, è politica, è costretta a essere politica. E mentre in Aristotele c'è, chiarissimo, in apertura dell'etica nicomachea, cioè di una delle opere più importanti, c'è l'equazione aperta fra la politica e l'architettura con la filosofia, che però fa un gioco un po' diverso. Platone, quando parla di architettura in senso proprio, cioè nel politico, distingue l'architettura con l'attività tecnica del costruire, la distingue dalla politica che è per lui la scienza teoretica idonea a dare ordini. Nel politico ha voluto sottolineare che quello che gli interessa, quello che gli interessa del rapporto tra politica, filosofia e spazio non è la tecnicalità.